chi siete cosa fate cosa portate si ma quanti siete due stiamo io a lui dietro non c'è un fiorini si paga un fiorino chi siete quello che è passato adesso col caro c'è caduto il sacco qua cosa portate niente quello di ma siamo passato a destra stiamo qua e caduto il sacco si ma quanti siete una terra eravamo due quando siamo passati ma uno vado a prendere il sacco un fiorino che è caduto il sacco un fiorino ci siete quelli di prima sono venuto a prendere il sacco cosa portate porto oliva caciotte pane un po' di si ma quanti siete uno insensato su scendono un fiorino e uno entra e esce cosa sbaglio sempre un fiorino siamo due o tre ma grazie arrivederci che siete cosa portate si ma quanti siete un fiorino che siete cosa portate si ma quanti siete un fiorino che siete un fiorino che si ma quanti siete un fiorino che si ma quanti siete un fiorino che si ma quanti